Gentile pubblico, Estoria 2019, quindicesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Erodoto. Il festival è ideato e organizzato dall'associazione culturale Estoria, con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'associazione italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste, dell'Università degli Studi di Udine e della RAI Friuli Venezia Giulia. Inoltre, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, qui vi invitiamo ad aderire. Il Decoro Floreale è a cura dell'Istituto Tecnico Agrario Giovanni Brignoli di Gradisca, che ringraziamo per la collaborazione. Sta per iniziare l'incontro intitolato Famiglie della Storia, i Savoia. Intervengono Alessandro Barbero e Gianni Oliva, in collegamento a Medeo d'Aosta. Coordina Fabio Torriero. Incontro realizzato con il sostegno di Confedilizia. L'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo messaggio via Whatsapp o Telegram al numero 33 11 68 29 69. È possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti! Allora, buongiorno, io mi presento, sono Fabio Torriero, docente universitario e giornalista da più di 25 anni. Sono onorato di far parte di questo panel, di queste vesti di coordinatore e onorato di questo panel e vi presento subito. Non hanno bisogno di presentazione, fateli un applauso, professore Alessandro Barbero. Tra le tante pubblicazioni, il libro su Costantino oggi si vota per l'Europa, quindi Carlo Magno, un padre dell'Europa, un grande significato e Caporetto, luogo qui vicino, quindi tutto quello che ha significato per quanto riguarda la Prima Guerra Mondiale. Grande divulgatore della storia, io ho molto apprezzato le sue presenze alla storia e soprattutto la controinformazione su quel periodo storico, il Medioevo, che viene considerato un secolo buio, che invece insieme a cose negative ha anche tante cose positive, aspetti positive. Poi, professor Gianni Oliva, un altro applauso. E naturalmente tra i suoi libri, sono libri che sono assolutamente dentro questo argomento perché appunto Savoia, 900 anni di una dinastia, le tre Italia e poi il libro sui Borboni, un regno che è stato grande. Allora, entriamo subito in argomento. Savoia, una storia millenaria di una dinastia che è intrecciata indissolubilmente con la storia d'Italia e non solo. Da Biancamano a Umberto II, passando per il Conte Rosso, il Conte Verde, Emanuele Filiberto, la famosa frase Fert che trova la sua spiegazione proprio al castello di Miramare perché ci sono vari libri che spiegano, che tentano di spiegare questa parola. Però questa parola, il Savoia, ancora oggi suscita dei sentimenti contrastanti. Non per la storiografia, perché la storiografia viene fatta, è seria, è obiettiva, è oggettiva, ma per la lettura politica che spesso si fa della storia. Noi siamo un po' tutti vittime dell'ideologia della storia, dai libri di testo in poi, e sono tutte, diciamo, deformazioni che non contribuiscono a creare un vero sentimento nazionale, una vera pacificazione nazionale, una specie di guerra tra Guelfi e Ghibellini, tra bianco e nero. I francesi hanno avuto rivoluzioni, la ghigliottina, hanno avuto monarchie, imperi, repubbliche, eppure si sentono francesi. Gli italiani invece no, ma è colpa di questa lettura, diciamo, politica che spesso si fa della storia e ci sono tanti elementi che comunque hanno contribuito a questa, interpretazione di parte. Uno, dicevo, appunto, la storia è usata come clava politica. Poi nel 1946 ci fu il referendum, Umberto II andò via e nel suo messaggio di appello agli italiani in fondo ha lasciato delle ombre su quell'esito. L'Italia era divisa, mezza Italia era monarchica, mezza Italia era repubblicana, ci fu la Corte di Cassazione che non omologò mai i risultati del referendum. E chiaramente, e va dato atto a De Gasperi e tutta la classe politica del dopoguerra, del secondo dopoguerra, di aver fatto una scelta di pacificazione. Nel primo governo, diciamo, con i comunisti e poi dopo hanno scelto dei capi di Stato di fede monarchica e di Nicola Einaudi, appunto, per impedire una ulteriore contrapposizione e per garantire la transizione con serenità. Poi c'è stata una certa letteratura filoborbonica degli ultimi decenni che ha mirato a demolire il processo risorgimentale a Guida Sabauda. Non è il libro, ovviamente, di Gianni Oliva, ma stiamo parlando di libri che non hanno molta scientificità. E infine i pregiudizi. Allora, avviamoci alla nostra conversazione. Di solito, quando nasce uno Stato unitario, popolo, nazione e, diciamo, e nazione, popolo e Stato devono marciare di pari basso. L'idea d'Italia nasce da lontano, verdante, addirittura le popolazioni preitaliche, però è indubbio che lo Stato nazionale unitario, appunto, nasce nel 1861. La nazione è arrivata dopo, prima lo Stato e poi la nazione. Per qualcuno la nazione non è mai arrivata, per altri è arrivata con l'allargamento del suffragio, con lo Statuto Albertino che era elastico, con la costituzionalizzazione delle masse cattoliche e socialiste di fine secolo dell'Ottocento, con la legislazione sociale di Giolitti e poi per qualcun altro la nazione parte dalle trincee, dalla Prima Guerra Mondiale, quando contadini del Sud e operai del Nord si sono trovati a combattere. Quindi in Italia è partito prima lo Stato e poi la nazione. E in secondo luogo ci fu quel sogno infranto del 1848, forse sarebbe nata un'altra idea d'Italia federalista, l'Unione Italiana. Come voi sapete il sogno del 48 fu infranto, andò male e l'impianto costituzionale su cui si è retta lo Stato italiano e quindi Aguita Sabauda, Risorgimento come lo conosciamo, ha il suo laboratorio nella Società Nazionale di Cavour, a cui aderiscono tra l'altro Garibaldi e Manin che erano, diciamo, dalla parte più socialista repubblicana erano l'insurrezionalisti. Allora, la domanda che faccio ai miei illustri ospiti, sono illustri ospiti. Innanzitutto la storia non si fa col senno di voi, ovviamente. Però quel sogno infranto del 48 avrebbe prefigurato un'altra Italia federale rispetto a quella che è nata dopo. E poi, secondo voi, l'opera risorgimentale è in realtà un'opera di modernizzazione o no? Prima, professor Barbero. All'ordine alfabetico, come a scuola, è sempre stato il mio destino di essere chiamato per primo. Anche alle interrogazioni. Appunto, appunto. Poi anche i primi più giovani. Questo va bene, questo può passare. No, allora, diciamo subito una cosa. L'Italia ovviamente, vi dico delle banalità su cui siamo tutti d'accordo, l'Italia è un paese complicato. L'Italia è un paese di profonde differenze. Gli italiani sono una nazione non nel senso in cui lo sono i francesi. I francesi sono una nazione omogenea, dove i dialetti sono praticamente spariti e tutti parlano sostanzialmente la stessa lingua in tutta la Francia, dove perfino lo stile con cui sono costruite le case, le chiese, si assomiglia molto anche fra zone che nel Medioevo erano estranee nel modo più totale, come la Provenza o la Normandia. L'Italia non è così, ma questo non vuol dire che non sia una nazione e neanche che lo sia diventata più tardi, secondo me. L'Italia è una nazione caratterizzata dal fatto di avere al suo interno enormi differenze, il che non impedisce affatto che si sia tutti italiani, anche nell'odiare quelli della regione accanto o della città accanto. Non c'è niente di così tipicamente italiano come il fatto di essere ferocemente ostili a quelli del campanile vicino e questo accomuna tutti gli italiani. Allora, allo stesso modo il risorgimento è stato un processo molto complicato in un paese, vi dico un'altra banalità su cui siamo tutti d'accordo, l'Italia è un paese spaccato, è sempre stato un paese che si spaccava su prospettive diverse e magari non due ma tre. Nel risorgimento, che poi è uno dei rari casi in cui un processo nazionale si è concluso davvero con un successo, con una modernizzazione, perché è chiaro che per i criteri dell'epoca, per come ragionavano loro, creare un grande stato nazionale era assolutamente una cosa necessaria, doverosa, per poter stare al mondo, per poter andare in giro per il mondo a testa alta, come facevano i francesi o gli inglesi. Il risorgimento, che è stato uno dei rari casi di un momento della storia italiana, che pure fra contrasti, conflitti, lasciandosi indietro degli sconfitti, anche dei vinti, come si dice adesso, ecco, però è stato un successo e una modernizzazione e però anche lì c'erano diverse strade possibili, non solo due, non era solo questione di facciamo uno stato unitario, estendendo il sistema piemontese a tutto il paese, oppure facciamo il federalismo, che detto così oggi ci sembra magnifico, però pensate anche alle difficoltà in quel momento, quando una delle priorità era creare un grande esercito perché erano sicuri che l'Austria ci avrebbe attaccati il giorno dopo, poi non ci ha attaccato proprio il giorno dopo, ma insomma ecco, figuratevi le difficoltà erano grosse. Il Papa, facciamo il federalismo e Presidente dell'Italia federale facciamo il Papa? Molti italiani sarebbero stati contenti e molti altri orripilati. Però poi c'era anche un'altra ipotesi ancora, facciamo la democrazia, facciamo la Repubblica, il soffragio universale e anche quello non è stato fatto, ci sono poi voluti 50 anni per farlo. Quindi la storia d'Italia è sempre una storia di strade da prendere che comunque lasciano indietro qualcuno, ci saranno sempre quelli che sono d'accordo e contenti di com'è andata e quelli che invece la volevano in un altro modo. Detto questo, ripeto perché mi sembra il caso di ripeterlo, il risorgimento nel suo insieme con tutte le pagine oscure, gli errori, le stupidaggini e quando mai nella storia d'Italia c'è stato un momento in cui non sono venute fuori anche vigliaccherie, sbagli, c'è città, ci mancherebbe. Però nell'insieme è stato un momento in cui l'Europa guardava l'Italia dicendo però, però questi italiani, che roba, che politici che hanno, fantastici. Io quando ho letto un giornalista tedesco, il quale in una Germania non ancora unificata, perché ci siamo unificati prima noi, scriveva, fortunati gli italiani che hanno un cavour, non come noi che abbiamo solo questo Bismarck. Ecco, lì mi sono reso conto che appunto bisogna giudicare con gli occhi del tempo e non con i nostri, quello che è successo allora. Grazie. Oliva, Gianni Oliva. Sì, ma io aggiungerei una cosa, l'Italia è così frammentata perché ha una storia frammentata. Quando nel 1861 nasce l'Italia è la prima volta che la penisola appartiene ad uno stesso stato, perché tutta la storia precedente è una storia di frantumazione, a parte il periodo romano in cui la penisola era parte dell'impero romano ma era parte di un tutto. Non è un caso che siamo, quando si è messo insieme tutto questo territorio, si è fatto sicuramente un'opera di modernizzazione. Voi pensate cosa succedeva nel 1840 quando qualcuno a Lione produceva delle tele, poi usciva da Lione e andava a venderle a Lille, a Parigi, a Bordeaux, a Marsiglia, aveva un mercato grande come tutta l'Italia. Quando qualcuno produceva delle stoffe a Biella, a Chieri, a Pinerone, insomma, dalle nostre parti perché siamo entrambi nati vicino, in Piemonte, e voleva andare a vendere, che sono, nel sud, doveva attraversare il confine con Lombardo-Veneto, poi entrare nel Ducato di Parma e Piacenza, poi in quello di Modena, poi passare nel Gran Ducato di Toscana, stato pontificio a Regno e due Sicilie, sei frontiere, sei dazzi, vuol dire che se la merce costava 100, quando arrivava al mercato costava già 130. Poi bisognava convertire sei volte la moneta, convertire sei volte le unità di misura, perché erano unità di misure differenti. È chiaro che non poteva decollare l'economia in quelle condizioni, per cui l'Italia è un elemento di modernizzazione che ha alle spalle come spinta le esigenze della borghesia nascente di avere un mercato grande come tutta la penisola. Non aveva però alle spalle una nazione, perché tutti i popoli italiani erano dei popoli regionali. Oggi credo che ci sentiamo italiani in contrapposizione ai tedeschi piuttosto che ai francesi, ma credo che nel fine dell'Ottocento ancora, non lo so, un livornese sentiva più nemico un pisano che non un francese o un tedesco. Ma anche oggi sai. Probabilmente anche oggi. Il che prova che una cosa non esclude l'altra però in realtà. Alla faccia di Pizorn, dell'idea di fare la provincia unica, come diceva. Se posso raccontare un aneddoto, sono nel 2011, quando c'è stato i 150 anni, il Ministero degli Esteri ha organizzato cicli di conferenze negli istituti di cultura italiani all'estero, soprattutto in Sud America, dove ci sono parecchi emigrati italiani. I giovani sono tutti di seconda generazione, nati là, ma molti frequentano il Dipartimento di Italianistica. Mi hanno mandato a fare tre settimane di interventi a Caracas, in Venezuela. Faccio questi interventi, a un certo punto si alza un ragazzo molto sveglio e dice il professore, ma noi venezuelani siamo stati scoperti da un italiano, Cristoforo Colombo. Il nome ce l'ha dato un italiano, Americo Vespucci. Il nome è italiano perché Venezuela vuol dire piccola Venezia. Com'è che voi ci avete scoperto, avete 150 anni e noi ne abbiamo 200 perché in quei giorni festeggiavano i 200 anni dell'indipendenza del Venezuela. È proprio qui che sta la differenza tra nazione e stato, tra cultura e stato. L'Italia è esistita da molto tempo come cultura, come civiltà. L'Italia di cui parla Dante, che citavi tu, o della canzone all'Italia di Petrarca, o per cui Machiavelli scrive Il Principe auspicando l'unificazione, è l'Italia della letteratura, della pittura, della scultura, dell'arte. Non è un'Italia popolare. L'Italia popolare è stata costruita a partire dal 1861 dall'Italia liberale, dallo Stato italiano, dalla scuola. E noi siamo sempre troppo, come dire, inconsapevoli delle nostre ricchezze, ma quando si è unificata l'Italia, il Regno di Sardegna aveva una legge approvata nel 1859, la legge Casati, che stabiliva che i primi due anni della scuola elementare erano gratuiti e obbligatori. Era una legge straordinaria perché stabiliva il principio che studiare è il diritto del cittadino, dunque gratuita, ma è anche il dovere, dunque obbligatoria, perché uno Stato non può modernizzarsi con dei cittadini ignoranti. Quella legge trasferita nello Stato italiano ha permesso a tanti italiani di fare la seconda, la terza, qualcuno la quinta elementare e riformarsi. In quell'ambito si è formata un'italianità che poi, durante la Prima Guerra Mondiale, si è materializzata nel fatto che tutti appartenevano ad una esperienza comune. E quindi modernizzazione. Allora, facciamo una fotografia, scorriamo questi sovrani, quattro sovrani di Casa Savoia, sovrani capi di Stato italiani, Vittorio Emanuele II, Umberto I, Vittorio Emanuele III e Umberto II. Ecco, Vittorio Emanuele II che sta con Cavour, però aiuta le armi a Talamone e Garibaldini, quindi la via legale e la via insurrezionalista, non so, il gioco delle parti. Umberto I che sta con Baba Beccaris, ma anche no. Vittorio Emanuele III che sta con Giolitti, monarchia socialista secondo Missiroli, poi dopo la diarchia con Mussolini, tutto quello che sappiamo. Umberto II tentò una monarchia riformista. L'idea che vi siete fatti voi, questi sovrani di Casa Savoia sono stati più arbitri, più capitani o più notai? Ci scaldiamo? Dai, vai tu, dai, facciamo un chiasmo. Allora, io credo che l'unità d'Italia sia stata realizzata non come una rivolta dal basso, come è stato raccontato dalla storiografia liberale. L'Italia è un'operazione di vertice, tant'è che siamo l'unico paese al mondo che è il primo re che si chiama già secondo. Noi non ci facciamo caso, ma Vittorio Emanuele II all'estero dicono come mai è il primo re che ha chiamato secondo, perché è una progressiva annessione del regno di Sardegna. Prolungamento. Non a caso, poi quando l'Italia si è unificata, la legislazione sabauda è diventata nazionale, c'è stata la piemontesizzazione dell'Italia. Bene, la ragione per la quale l'unificazione è stata guidata dai Savoia e non dai Borboni, cosa che non era così scontata al fine Settecento, all'inizio dell'Ottocento, è il 1848. Il 1848 è un fragore tale che è rimasto sedimentato nel linguaggio, ancora oggi si è scoppiato un 48 per indicare una conclusione. il 48 si diffonde in tutta l'Italia, dappertutto vengono concessi gli statuti, dappertutto vengono revocati, tranne che in Piemonte. Non credo per la lungimiranza di Vittorio Emanuele II, è che Vittorio Emanuele II, subenca al padre che ha abdicato, è un giovane di 28 anni e si trova una classe dirigente dove ci sono i caburi, la marmora, i Massimo D'Azeglio, cioè persone con una statura tale per cui l'azione di forza di revocare lo statuto non poteva avercela. Ma nel momento in cui Torino e il Piemonte riescono l'unico territorio liberale in un'Italia assolutista, diventano il punto di ritrovo di tutte le teste migliori. Chi ha partecipato al 48 negli altri paesi, viene o imprigionato, costretto all'esilio o con la carriera tarpata, si sposta a Torino. Ci arriva per esempio un napoletano come Francesco De Santis, che diventerà ministro dell'istituzione, che era professore all'Annunziatella di Napoli, un generale calabrese come Guglielmo Pepe, un dalmata come Niccolò Tommaseo, e tutti questi formano una classe dirigente che è già italiana, nel senso che appartengono a regioni differenti che guidano il Risorgimento. Da questo punto di vista mi pare che Vittorio Emanuele II sia stato un uomo molto pratico, che ha saputo cavalcare gli equilibri politici che ci sono determinati. Di suo ha aggiunto il tratto. Guardate che far credere agli italiani, che erano italiani... Il grido di dolore. Il grido di dolore, sì, è stato celebrato poi nella letteratura sabauda post-munitaria. Ma il problema del far credere agli italiani, che erano italiani, era quello di trovare qualche cosa di comune nel proprio passato. La storiografia liberale ha inventato una serie di stereotipi che la nostra generazione ha ancora studiato a scuola. Se ricordate, ci insegnavano che il primo momento di italianità è la battaglia di Legnano, quando i comuni lombardi, dopo aver fatto il giuramento di Pontida, stretti attorno al carroccio, sconfiggono Federico Barbarossa. Il fatto che Bosse abbia usato gli stessi simboli in senso antiunitario la dice lunga sul fatto che la battaglia di Legnano è una battaglia tra Guelfi e Ghibellini, una storia regionale lombarda, più una storia di guerra civile interna alla Lombardia che non una storia di italiani che si contrappongono a Barbarossa. Poi ci raccontavano della disfida di Barletta. Non so se c'è stata, se è stata una rissa tra ubriaconi, perché mi riesce male a pensare a dei mercenari che si battono per un'Italia che non esiste. Oppure Pietro Micca, Balilla, piccoli personaggi. Pietro Micca è un personaggio, vabbè, essendo torinesi lo sentiamo come nostro, è un episodio storico del 1706 di cui si comincia a parlare a metà dell'Ottocento. Per 150 anni nessuno ne sa nulla. Pietro Micca è quello che fa saltare in aria la galleria impedendo ai francesi di entrare nella città sediata. Tanti anni fa Umberto Eco faceva una trasmissione alla radio alle interviste impossibili, in cui intervistando Pietro Micca lo trasforma in un robusto contadino piemontese che bestemmia contro il maresciallo che gli ha dato una mincia troppo corta. Probabilmente era più vicino a lui alla verità che non alla retorica. Ecco, era difficile far sentire gli italiani italiani perché eredi della battaglia di Legnano, di Pietro Micca, di Balilla e quant'altro. Ci voleva qualcos'altro. E' stato usato come elemento identificatore la dinastia Sabauda, reinterpretata come una dinastia di guerrieri generosi e coraggiosi che dal metà del Cinquecento, quando trasferiscono la capitale da Schomberia a Torino, pensano all'Italia. Vittorio Emanuele II ha funzionato come immagine perché era un personaggio, non era regale, dicevano tutti i gossip sul fatto che non fosse figlio dei suoi genitori ma figlio di contadini toscani con il quale è stato sostituito il vero Vittorio Emanuele II, morto bambino in mezzo alle fiamme. Era il padre della patria in tutti i sensi. Sì, anche degli italiani, dicono, alle nostre parti perché ha avuto un sacco di figli illegittimi, non c'è paese del Piemonte che non avesse un discendente di un figlio illegittimo di Vittorio Emanuele II. Però al di là del fatto che è stato un grande amatore come tutti gli uomini potenti, andava a cercare i suoi amori nelle feste paesane, la compagna della sua vita Rosa Vercellane era una ragazzina che l'ha conosciuta a quattordicenni, analfabeta, figlia del postiglione di Casale Monferrato. Era uno che a disagio quando era vestito da re o quando era vestito da generale, perfettamente a suo agio quando era vestito da cacciatore. In questo senso era molto più vicino alla sensibilità popolare di quanto non lo sarebbe stato suo figlio Umberto che era invece regale, freddo, abituato a frequentare l'aristocrazia e l'alta borghesia milanese e quant'altro. Quindi diciamo, quindi pragmatici, era stato pragmatico, ma gli altri sono stati un po' più... Era stato un pragmatico. Umberto II ha avuto la grande fortuna di avere al fianco la moglie, una Savoia anche lei, Margherita, perché erano cugini primi, che rappresentava, se volete, la Diana Spencer dell'epoca, al netto del gossip. Ma Diana Spencer era in fondo il personaggio che stava nel mondo delle luci, dell'importanza dei VIP a cui tanti vorrebbero appartenere, però era anche la donna che incontrava Suor Teresa di Calcutta, faceva le battaglie contro le mine anti-uomo e quant'altro. Era un po' il trait d'union tra ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Regina Margherita è quella che costruisce la reggia del Quirinale, la fa diventare negli ultimi due decenni dell'Ottocento un luogo di incontro, di dibattiti, di mostri, di concerti, di pranzi, di feste, regali, però è anche la donna che va a fare la processione a Spaccanapoli dietro la statua di San Gennaro, che inaugura orfanatrofi, che inaugura asili infantili e forse non è un caso che l'unico prodotto popolare che ha un nome sabaudo ha il suo, la pizza Margherita. Professor Barbero, allora... Ti lascio gli altri. Ed è un prodotto napoletano. Continuando questa fotografia dei sovrani, ecco, in quale categoria li mette? Ovviamente con le due differenze, notai, arbitri, capitani o pragmatici? In quale di queste categorie? Eh, ma appunto, ognuno ha la sua. Diciamo, la domanda posta così, e cioè questi quattro re d'Italia, uno dopo l'altro, di padre in figlio, quindi con una continuità assoluta. Sono la dimostrazione di uno dei problemi di, come dire, trattare una famiglia, una dinastia, come qualche cosa con una sua identità precisa. Dentro la famiglia ci sono gli individui, e questo succede anche nelle famiglie reali. E le caratteristiche individuali possono essere diversissime e spingere le persone nelle direzioni più diverse. Voglio dire, Mussolini ha avuto un figlio che ha fatto con grande successo il suonatore di jazz per tutta la vita. Il figlio può essere totalmente diverso dal padre come carattere e come inclinazioni. E questo è successo anche nella dinastia Sabauda, solo che, se nasci principe ereditario, sei incatenato al tuo ruolo. sai che il tuo destino è quello, ti può piacere o non piacere, così come se nasci nel ramo cadetto come i duchi da osta, sai che non sarai mai re e ti rode e però un po' ci pensi, capitasse qualcosa, magari, ecco. Invece se sei il primo genito sai che quello dovrai fare e a volte ti tormenti perché a qualcuno piace e a qualcuno non piace. A Vittorio Emanuele II piaceva immensamente fare il re, tranne, e questo è un tratto che lo accomuna a Vittorio Emanuele III, suo nipote, tranne le cerimonie. Ecco, i pranzi, ai pranzi ufficiali si dice che Vittorio Emanuele II mangiasse rapidamente un boccone e poi stava lì guardando gli altri aspettando che finissero. A quel punto tutti ovviamente si affrettavano a accelerare i tempi, mentre invece mettersi in pantofole con la rosina era tutta un'altra cosa. Ma a parte quello a Vittorio Emanuele II piaceva fare il re, gli piaceva passare in rassegna le truppe, galoppare in battaglia alla testa delle truppe con la sciabola sguainata, cosa che lui credeva volesse dire fare il generale e saper fare la guerra. Perché Vittorio Emanuele II più volte dirà il mio mestiere è la guerra, quello che io so fare è la guerra, se non posso fare la guerra piuttosto mi faccio frate. Ecco. Poi i suoi collaboratori hanno lasciato scritto durante la seconda guerra di indipendenza quando davvero Vittorio ha comandato l'esercito e però per fortuna avevamo gli alleati francesi con Napoleone III alla testa e i collaboratori di Vittorio hanno lasciato scritto meno male che c'è l'imperatore Napoleone, lui sì che sa fare la guerra, il nostro re non sa leggere una carta, non si ricorda mai il nome di un paese, tutte cose che per condurre un esercito in battaglia, però galoppare alla testa delle truppe mentre fischiano le pallottole, sguainare la sciabola e dire ai soldati forza fiei! Ecco, quello lo sapeva fare e gli piaceva da morire. Suo nipote Vittorio Emanuele III non solo non piacevano le cerimonie ma non gli piaceva proprio fare il re quanto al suo carattere personale. Poi però lo doveva fare e quindi l'ha fatto interpretando il ruolo come a lui sembrava dovesse essere interpretato, cercare in tutti i modi di rafforzare sia la dinastia sia il paese perché quello è il mio dovere. Ma quando c'è la grande crisi nel 1915 quando c'è la prima guerra mondiale in corso e noi siamo rimasti fuori però il governo allaccia trattative con la Francia, l'Inghilterra, la Russia e firma il patto di Londra con cui noi siamo impegnati a entrare in guerra però al Parlamento non hanno detto niente. Lo sanno solo il re, il primo ministro Salandra e il ministro degli esteri Sonnino e poi vanno a leggere lo statuto e si rendono conto che devono chiedere il consenso del Parlamento però hanno già firmato l'impegno. A quel punto nel maggio del 15 c'è qualche momento di panico in cui c'è il terrore che la Camera voti contro e allora il governo si dimetterà, certo infatti Salandra si dimette non aspetta neanche il voto della Camera e il re Vittorio in quei giorni va dicendo a destra e a sinistra che vista questa situazione vergognosa anche lui abdica e non gli costa niente abdicare perché dice io qua non ci volevo venire e ne volevo parlare a mio padre Umberto. Poi lui è morto in quel modo che sapete sapete Umberto I è stato ammazzato da un anarchico nell'anno 1900 e di conseguenza suo figlio è diventato re da un giorno all'altro 15 anni dopo Vittorio Emanuele III dirà io non ci volevo venire volevo dirlo a mio padre non posso pensare cosa avrebbe detto Umberto ma comunque adesso sono qua ma se devo abdicare abdico e dice io ho sempre pensato che quello che voglio veramente fare è andarmene a vivere a Antib o alle Baleari quindi abdico e me ne vado al mare il bello è che poi lo farà nel 45 quando abdica davvero se ne va al mare a Sharm el Sheikh allora poi però fa il re fino in fondo quello che li ecco cosa hanno in comune i membri di una dinastia sono persone diversissime una dall'altra con gusti passioni interessi a Vittorio III piacevano le monete era un grande collezionista di monete e di quello era in grado di parlare per ore e ore per il resto lo giudicavano tutti un tipo arido poi però quelli che lo conoscevano bene dice uno che avrebbe voluto una vita familiare felice esatto e ci ha sperato invece poi con Elena non è mica andata nonostante la propaganda in realtà non è andata bene per niente il re non è felice insomma al di là di questo però cosa hanno in comune che a tutti loro da bambini hanno insegnato tu sei un Savoia e sei un futuro re e hai un dovere nei confronti primo della dinastia e poi anche del paese ma innanzitutto da uno alla volta e si comanda uno alla volta è certo è certo e allora a quel punto se questo ti hanno insegnato questo hai hai dentro la testa difendere a tutti i costi la gloria e la fama e le prerogative e il potere della dinastia e poi fare il meglio che puoi per il paese ecco e questa è l'unica cosa che accomuna i membri di una dinastia e che rende sensato studiare una dinastia come un qualche cosa che ha una sua identità condivisa benissimo noi sui libri di scuola studiamo una parola chiave che in qualche modo caratterizza il risorgimento la storia d'Italia e poi anche dopo la storia repubblicana trasformismo che è una delle parole brutte o belle a seconda delle interpretazioni per qualcuno è una peculiarità italiana per altri è un'anomalia trasformismo da Crispi Depretis Crispi fino a Giolitti questo riconoscersi dentro una caotica maggioranza in funzione interscambiabile dei deputati che vanno a destra a sinistra ma la cosa era partita anche prima Garibaldi da sinistra va a destra la destra storica era destra diciamo politica ma non economica c'è sempre stato questo calderone personaggi che si mettevano insieme parlamentari si riconoscevano intorno alla figura del Presidente del Consiglio che tra l'altro era una figura non contemplata dallo Stato Albertino perché la titolarità del potere esecutivo era appunto nelle mani del re tanto che poi Sonnino pensava di tornare allo statuto eccetera trasformismo quindi pesi e contrapesi forze politiche che estremiste diventano nell'area governativa elementi di stabilizzazione del sistema come i radicali da Cavallotti Lemmi fino a Sacchi che poi entra nell'area questa parola trasformismo che poi ritroviamo di Repubblica sinonimo di inciucio di grande centro di mediazione eccetera allora per voi questo trasformismo nella diversità nella diversa reglinazione perché da appunto De Predis Grispi e poi Giolitti assume forme diverse però la sostanza più o meno è la stabilità del sistema per voi è stata un'anomalia o una peculiarità? Ma io credo che il trasformismo sia due cose un conto è il trasformismo politico inteso come la ricerca di un accordo di un compromesso su un progetto che è tipico di un paese come l'Italia che è stato di fatto da sempre proporzionale anche oggi se i nostri leader cominciassero a rendersi conto che non siamo in un sistema maggioritario ma in un sistema proporzionale forse si ragionerebbe un po' di più sui progetti e forse si abbasserebbero anche i toni allora questo trasformismo inteso già dall'ottocento come cercare una maggioranza tra sensibilità e provenienze differenti mi pare che non sia una peculiarità italiana sia una caratteristica di tutti i sistemi proporzionali che ci sono al mondo la caratteristica la peculiarità negativa italiana è che spesso questo trasformismo è stato declinato in clientelismo allora io non costruisco un progetto unitario un compromesso nel senso di compromettere di promettere insieme e quindi di fare un passo in avanti rispetto ai punti di partenza ma è diventato compromesso nel fare dei passi indietro e nel comperare i voti l'adesione la partecipazione con qualche concessione di carattere territoriale in un'epoca in cui i parlamentari erano eletti con il sistema uninominale era facile ti faccio rifare la chiesa ti faccio costruire questo ponte e tu voti a sostegno del governo De Pretis o del governo Giolitti quindi non mi pare che si possa condannare il casformismo in sé come progetto politico bisogna condannarne le tante degenerazioni che ci sono state e che mi sembra sono poi diventate clamorose nell'Italia repubblicana soprattutto sì io sono d'accordissimo con quello che dice Gianni Oliva e mi andrei ancora più in là sarebbe bello se quando si fa un'analisi politica o storica si riuscisse a usare il meno possibile questi termini in ismo che una volta coniati rimangono impressi nella testa di tutti noi e automaticamente comportano dei giudizi io sono convinto per esempio per fare una rapidissima evasione nella situazione italiana di oggi che parlare di populismo o parlare di sovranismo sono mistificazioni che nascondono realtà molto complesse sfaccettate invece quando tu le affastelli tutte facendo di ogni erba un fascio e in questo caso anche fascismo a volte si usa con eccesso ecco in realtà si sta facendo una lotta politica a base di mazzate quando ci vorrebbe il bisturi per esaminare davvero le differenze e il trasformismo appunto è la stessa cosa direi quando Garibaldi uomo di sinistra repubblicano rosso e anticlericale arriva in Italia nel 48 nel caos immenso del 48 e ha la lucidità per una volta in vita sua e Garibaldi politicamente ogni tanto ha l'impressione di non avere idee chiarissime ma in realtà poi sotto sotto sapeva tenere il timone era un marinaio sapeva tenere il timone fermo arriva in Italia nel 48 proveniente da quel caos ancora più incredibile che è il Sud America dove succede di tutto e lui ne ha visto di tutti i colori arriva in Italia e lui repubblicano dopo essersi guardato intorno dice pubblicamente in un manifesto io sono repubblicano ma sono venuto a portare la mia spada al re perché in questo momento solo il re e il suo esercito possono fare l'Italia quella è come dire estrema lucidità politica non è trasformismo peccato che poi il re Carlo Alberto quando arriva Garibaldi scrive poi non so più se in una lettera a quale dei suoi familiari dice è arrivato qua il famoso generale il cosiddetto generale Garibaldi e ci ha offerto i suoi servigi voi capite che di uno così non sappiamo proprio cosa farcene si sta scrivendo al ministro della guerra si potrebbe forse dargli un sussidio purché si tolga dai piedi e questo è il modo in cui il re Carlo Alberto gestisce l'unico generale italiano capace che esistesse in quel momento l'italiano più bravo in assoluto a fare la guerra che ci fosse ma appunto in quel caso lì non è il trasformismo di chi invece in Parlamento eletto su un programma all'improvviso decide un'altra cosa o il trasformismo del Mussolini fierissimo anticlericale che a un certo momento decide che la cosa politicamente più pagante in Italia è fare il concordato col Vaticano e rimettere i crocifissi nelle aule delle scuole ecco quello sì che è trasformismo poi c'è ancora anche un'altra versione dato che parliamo dei Savoia diciamolo i Savoia sono stati spesso accusati di fare una politica disinvolta nel senso di cambiare facilmente di alleati ed è vero che in più circostanze questo è successo naturalmente bisogna anche pensare a qual è l'esperienza e la realtà geopolitica di un paese come quello che i Savoia governavano prima di diventare re d'Italia i Savoia governavano un piccolo stato armato fino ai denti perché ci teneva mantenere la sua indipendenza circondato di fortezze con un servizio militare più pesante che non negli altri stati italiani con anche una retorica militarista che lascia un po' il tempo che trova ma che qualche traccia poi l'ha lasciata nella mentalità del popolo e della nobiltà piemontese ecco loro governavano questo piccolo stato armato fino ai denti avendo da una parte il regno di Francia e cioè la più grande potenza europea in quei secoli e dall'altra il Lombardo Veneto prima spagnolo e poi austriaco cioè in mano alla seconda grande potenza europea dell'epoca e siccome la Francia e l'impero dal Lombardo erano continuamente in guerra fra loro e bisognava decidere da che parte stare ogni tanto succedeva che si cominciava a dire certo che se cambiassimo e passassimo con quegli altri sarebbe meglio e ogni tanto lo facevano naturalmente nella politica del 600 e del 700 quando succedevano queste cose gli ex alleati traditi facevano alte lamentele pubblicando manifesti in cui svergognavano l'ignobile doppiezza di Monsignore il Duca di Savoia in realtà in tutte le corti europee si sapeva benissimo che le regole del gioco erano quelle che ognuno faceva i propri interessi quando ne aveva bisogno e dopodiché queste cose verranno ricordate e quando non solo i Savoia ma se Dio vuole l'Italia nel 43-44 passa dall'altra parte e di nuovo meno male che l'ha fatto perché in quei casi lì è il realismo politico se non addirittura la sopravvivenza del paese che è il gioco quello che sta dicendo Alessandro Barbero in realtà è la chiave di lettura della storia sabauda perché i Savoia da quando compaiono sulla scena storica a metà dell'undicesimo secolo fino al 1946 al 2 giugno governano ininterrottamente un territorio sono 900 anni di dinastia come Conti Ducchi re di Sardegna re d'Italia com'è che sono riusciti a sopravvivere stretti fra dei potentati la Francia la Spagna l'Austria secondo dei tempi e chi sa voglia su questo territorio povero sul quale sono comparsi avevano una ricchezza ci passavano le due strade che collegavano due tra le strade più importanti che collegavano il nord col sud dell'Europa la via del Cenisio e la via del San Bernardo lì ci passavano tutti i pellegrini è la ragione per cui la strada del Cenisio della valle di Susa veniva chiamata la via peregrina o per cui c'è un quartiere a Torino che si chiama ancora oggi la Pellerina perché è il luogo di sosta dei pellegrini adesso devo dire è rimasto il luogo di sosta di altro genere non tanto di pellegrini è la zona della prostituzione torinese diciamo ci passavano i commercianti e la strada veniva chiamata via Romea se fatta dalla Francia verso l'Italia o via Francigena fatta in un'altra direzione ma soprattutto ci passavano gli eserciti e gli eserciti nell'età medievale nell'età moderna non erano fatti di centinaia di migliaia di uomini erano fatti di poche migliaia di uomini chi dominava i colli i passi aveva facilità se non a respingerli almeno a ritardarli il passaggio i Samoia erano da questo punto di vista degli alleati preziosi mai decisivi sul campo di battaglia ma sempre preziosi perché chi aveva i Savoia alleati iniziava la campagna spostando le truppe da un versante all'altro delle Alpi senza problema e viceversa la loro longevità politica nasce dal fatto che hanno usato un dinamismo politico e militare straordinario hanno partecipato a tutte le guerre talvolta hanno cambiato alleato nel corso della guerra ma non è l'approssimazione morale le guerre del 6-700 prima ancora erano guerre che finivano con il determinare la maggior potenza di un dinasta rispetto ad un altro altra cosa è nel 43 passare dall'alleanza con Hitler alla cobelligeranza con gli inglesi e gli americani ma nel 700 spostare l'alleanza voleva dire intuizione politica questo modo hanno finito le guerre da vincitori hanno conquistato una città un castello una vallata non sono mai diventati un grande stato fino al risorgimento però hanno sempre mantenuto la loro indipendenza benissimo il professor Barbero già di fatto ha introdotto un altro argomento punto dolente Vittorio Emanuele III quando parliamo di Vittorio Emanuele III io mi chiedo di quale re parliamo del re della monarchia parlamentare della monarchia socialista cosiddetta di Giolitti della legislazione sociale il re di Peschiera che fa fare il guizzo dopo Caporetto appunto il libro Caporetto ha scritto il professor Barbero è il re anche della diarchia con Mussolini delle leggi razziali ecco un'analisi un'analisi obiettiva è possibile di quale re parliamo ma io credo che Vittorio Emanuele III abbia avuto della fuga di Peschiera ecco abbia avuto la sfortuna di regnare troppo a lungo dal 1900 al 1946 nel periodo più complicato della storia del mondo perché i primi 50 anni del 1900 hanno avuto la prima guerra mondiale il fascismo il nazismo il comunismo la seconda guerra mondiale le bombe di Hiroshima tutti i protagonisti di quella stagione Roosevelt Stalin Hitler Mussolini sono stati sono stati i politici di un pezzo Vittorio Emanuele III ha vissuto tutto il periodo se fosse morto nel 1920 lo ricorderemmo tutti come il re di Vittorio Veneto o il re di Peschiera essendo avendo abdicato nel 1946 lo ricordiamo come il re di Pescara della fuga dell'8 settembre da Peschiera a Pescara io credo che sarebbe stato difficile per chiunque reggere il ruolo di protagonista per un periodo così lungo e così complicato Vittorio Emanuele III è stato il re dell'apertura della trasformazione dell'Italia in democrazia liberale è stato il re che ha portato al governo Giolitti è stato il re dei primi 15 anni del Novecento poi è stato il re dello sforzo nazionale della prima guerra mondiale poi credo abbia fatto due errori clamorosi il primo nel 24 non nel 22 perché quando Mussolini è stato chiamato al governo è stato votato da una maggioranza bulgara nel senso che hanno votato a favore di Mussolini tanti che poi saranno perseguitati perché tutti immaginavano ci volesse un uomo forte per sistemare le cose e poi si tornava alle libertà dello steluto albertino ma nel 24 di fronte al delitto Matteotti che non nasce da un ordine nei Mussolini ma matura nel clima che Mussolini ha creato durante le elezioni a chiedere al re di destituirlo non ci vanno i capi dell'opposizione ci va Benedetto Croce ci va Vittorio Emanuele Orlando personaggi sicuramente monarchici e liberali di fronte a queste pressioni il re prende tempo rinvia tergiversa Mussolini che non si può non riconoscere ha una grande intuizione politica accorgendosi che i tentenamenti del re lo legittimano prendi l'iniziativa il 3 gennaio del 25 pronuncia quel famoso discorso in Parlamento in cui rivendica a sé solo la responsabilità storica politica e morale di quanto è accaduto chiaro che se il capo del governo rivendica di aver fatto uccidere il capo dell'opposizione la democrazia è finita perché ha fatto quella scelta il re? perché credo abbia privilegiato gli interessi della dinastia rispetto a quelle della nazione guardate che nel 24 siamo in un'epoca in cui sembra che non ci sia più futuro per le dinastie i Romanov sono stati sterminati dalle guardie rosse in Russia gli Asburgo in Austria gli Ohenzoller in Germania sono fuggiti alla fine della guerra per le rivoluzioni di Berlino e di Vienna Vittorio Emanuele III immagina che con Mussolini e con il fascismo perderà sicuramente del potere ma aumenterà del prestigio e manterrà il potere e di fatto in quegli anni diventa anche re d'Albania imperatore di Etiopia e poi re d'Albania il secondo errore lo fa nel 43 il 25 luglio il 25 luglio il re liquida il fascismo liquida Mussolini ma non liquida la guerra fascista e non liquida la guerra fascista perché gli alleati avevano stabilito concordato che si sarebbe combattuto fino alla resa incondizionata del nemico uscire dalla guerra il 25 luglio del 43 voleva dire fine di quella dinastia di quel re di quel gruppo dirigente di Badoglio di quella classe il re vuole arrivare a un armistizio dove c'è uno che vince e uno che ha perso ma nel momento in cui si firma ci si riconosce reciprocamente lo ottiene 3 settembre del 43 a Cassibile viene firmato l'armistizio reso poi ufficiale l'8 settembre il re continua a essere re d'Italia Badoglio continua a essere capo del governo ma in quei 45 giorni i tedeschi sapendo benissimo che l'Italia sta per dal loro punto di vista tradire uscire unilateralmente dall'alleanza fanno venire dalla penisola tutte le truppe che possono stornare da altri fronti e si preparano per il momento in cui l'Italia lascerà l'alleanza e determineranno quei due anni 43-45 di occupazione militare di rotta partigiana di guerra civile e quant'altro e qui di nuovo sono state privilegiate gli interessi della dinastia rispetto a quelli della nazione è quello che determina il risultato e si rompe questo patto ed è quello che determina il risultato del 2 giugno tu giustamente hai detto che 2 giugno spacca l'Italia non spacca gli italiani non è che ci sia una maggioranza risigata per la repubblica e una minoranza forte per la monarchia è che il sud vota per la monarchia massicciamente il centro nord vota massicciamente per la repubblica perché il sud non ha conosciuto l'occupazione tedesca il sud è uscito alla guerra nel settembre del 43 il nord che ha conosciuto gli altri due anni delegittimo Mussolini non è che ha votato repubblica le zone rosse cioè la provincia che ha dato il quaziente più alto della repubblica è la provincia di Trento che per tutta l'Italia repubblicana sarà una provincia bianca nel sud invece ci sono voti bulgari non so a Messina a Grigento supera il 90% della monarchia in provincia di Napoli arriva al 79 perché il fascino dell'idea monarchica non è stato minato e poi passano dall'amore per i Borboni all'amore per i Savoia direttamente vero? addirittura quando si sapete che una delle ragioni per cui l'Italia non ha un senso della nazione soprattutto non ha delle date è che il 2 giugno era difficile celebrarlo perché il 2 giugno il sud ha votato monarchia e ad un certo punto i giornali il 5 giugno annunciano la vittoria della monarchia perché essendo uscito prima dalla guerra avevano ripristinato linee telefoniche telegrafiche per cui i risultati arrivati al Viminale arrivati a Roma erano i risultati del sud De Gasperi scrive la sera del 5 giugno una lettera al re dicendo si profila la vittoria della monarchia spero potremmo continuare a collaborare e quant'altro democristiano è sempre va beh nel giorno successivo non arrivano tutti i risultati del centro nord che ribaltano la situazione e fa il golpe e si mette a fare il capo dello stato si mette a fare il capo dello stato però c'è De Gasperi che è trentino ad annunciare il cambio di risultato c'è il ministro Romita che è un piemontese di Tortona nel governo ci sono personaggi del nord Togliatti è di Ligure ma trasferito in Piemonte il sud lo percepisce come il golpe del nord contro il sud e a Napoli in una manifestazione di piazza ci sono via Medina in via Medina ci sono 18 morti per una notte di guerriglia tra i manifestanti filomonarchici e le forze dell'ordine tra l'altro è nato da un fatto curioso in via Medina c'era la sede del partito comunista quando passa questo corteo bandiera espongono una bandiera italiana dove non c'è più lo stemma ora per carità uno è libero di spore le bandiere che vuole però ci sono situazioni in cui la temperatura va in ebollizione pare che tra i giovani che c'erano nella sede di spore ci fosse anche il futuro presidente della repubblica Giorgio Napolitano giovane allora ragazzo di bottiglia effervescente effervescente due ragazzini dalla corteo salgono su per i tubi delle grondaie per staccare questo manifesto questa bandiera le forze dell'ordine che sono abituate alle adunate non alle manifestazioni fanno la cosa peggiore possibile sparano e li uccidono questi cadono morti in mezzo alla folla e nasce la rivoluzione si può immaginare non il contesto diciotto morti ecco perché quando viene annunciato la partenza del re il re parte in silenzio i giornali danno l'annuncio della partenza del re ma il giorno dopo i titoli sono per il triestino Cotur che vince al motovelodromo di Torino la prima tappa del giro d'Italia della rinascita cioè si dirotta subito l'attenzione e viene dato ordine di non fare nessuna festa per celebrare la repubblica perché sa di contraposizione e poi c'è l'intuizione politica di dire vabbè se siamo diventati una repubblica mettiamo come presidente della repubblica dei monarchici così De Nicola e Inaudi per equiparare questo vittorio e il terzo con varie sfaccettature e poi ricordiamo appunto che come ha già accennato Oliva questa maggioranza al primo governo Mussolini la danno a tutti gli altri qui fondamentalmente il blocco nazionale liberali anche i cattolici due ministri e quattro sottosegretari da cui i gronchi che diventa presidente della repubblica e poi se non piaceva questa fuga di Pescara poi perché i partiti antifascisti vanno a governare nel Regno del Sud e quindi a legittimare di fatto una scelta che come dice Trombadori è stata sbagliata nelle forme ma giusta nei contenuti ma sì infatti allora in realtà tutto quello che noi stiamo dicendo mi conferma sempre di più nell'impressione che fare storia nel modo tradizionale delle epoche del novecento fare storia del novecento nel modo tradizionale sia addirittura impossibile quando dico il modo tradizionale intendo dire accertare non soltanto gli avvenimenti quelli va bene si sanno che il re ha fatto arrestare Mussolini quel giorno e che l'altra volta è scappato questi si sanno ma non è questione di accertare gli avvenimenti fare storia significa dare fino adesso ha significato dare un'idea sostanzialmente condivisa per cui di un insieme di fenomeni si capisce la logica si capisce chi ha fatto certe scelte perché le ha fatte si intravedono delle maggioranze e delle minoranze ma nel novecento noi abbiamo troppe informazioni e continuamente siamo tirati da una parte o dall'altra dietro alle scelte individuali di una singola persona che ha fatto quella scelta lì e allora a quel punto uno dice certo il re nel 24 davanti al delitto Matteotti anziché riprendere in mano il paese il re imporre il liberalismo accetta come dire il crollo verso l'abisso della dittatura certo a quel punto però uno dice e il re ha sbagliato a farlo e certo tutti noi oggi diciamo sbagliato perché pensiamo che il fascismo sia stata una fase nel complesso dannosa della vita nazionale naturalmente questo non impedisce che ci sia una vasta parte di italiani che invece non sono d'accordo e tuttora pensano che il fascismo non è stata una cosa così brutta e di conseguenza non festeggiano non solo il 2 giugno ma neanche il 25 aprile naturalmente noi siamo un paese spaccato anche in questo e dopodiché tu dici va bene il re ha sbagliato ma quando entri in quella prospettiva cominci anche a chiederti ma lui in quel momento che elementi aveva in mano capite finisci per fare la storia di un'anima finisci per chiederti il re quanti giorni ha avuto per decidere e i suoi consiglieri cosa venivano a dirgli e lui la temperatura del paese come faceva a misurarla già riuscire a ricostruire le motivazioni per cui il re ha fatto quella scelta è una cosa che richiederebbe un lavoro enorme e non saremo mai veramente sicuri perché alla fine capite tu tu cerchi di entrare nella testa di una persona e non ci riuscirai mai dici magari quella persona ha lasciato un diario in cui ti racconta cosa ha provato in quei giorni e perché ha preso quella decisione peggio che mai tu gli credi al diario scritto dopo in cui lui sa già come è andata a finire e come credere al diario di Napoleone quando racconta la battaglia di Waterloo ecco è molto interessante leggere le pagine del diario di Napoleone dove racconta la battaglia di Waterloo ma guai se uno gli crede quando dice ho fatto questo ho fatto questo guai guai e allora poi uno dice va bene il re ha fatto quella scelta ma il paese in quel momento cosa pensava e cos'è il paese e quello che cercavo di dire malamente perché mi accorgo che non mi sono spiegato bene è che quando uno studia questi avvenimenti ha tutte le fonti immaginabili e non basta una vita cosa scriveva il Corriere della Sera in quei giorni e cosa scriveva la stampa e cosa scrivevano gli altri giornali e cosa pensava il paese ma il paese cos'era uno può andare a vedere cosa pensava Don Benedetto Croce in quei giorni certo e poi e i braccianti della pianura padana e i contadini siciliani e gli avvocati di Napoli il paese e tutte queste cose uno se vuole le può sapere io potrei dare io no perché non c'è una storia medievale grazie a Dio e nel Medioevo le fonti sono abbondanti ma non così abbondanti ma se io fossi un contemporaneista potrei dare una tesi che ne so appunto analizziamo un mese del Corriere della Sera per vedere in che direzione il Corriere tendeva a spingere i suoi lettori in quei momenti cruciali e quello sarebbe solo un frammento della realtà in altre parole quello che voglio dire è che mentre di solito lo storico ha il vantaggio di ricostruire un passato che è finito si sa come è andata a finire e le fonti di informazione sono relativamente limitate dall'epoca Longobarda ci sono arrivati quei documenti lì e quelli saranno sempre qualche centinaio di pergamene due cronache ogni tanto gli archeologi scavano e trovano qualche tomba in più ogni tanto salta fuori dalla terra qualche Longobardo non dico in carne e ossa ma in ossa sì e allora lo puoi misurare vedere sua moglie che orecchini portava e va bene sono tutte informazioni in più ma nell'insieme quello è un mondo chiuso finito a cui noi accediamo per pochissime strade cercare di capire come l'Italia è passata dal quindicennio giolittiano in cui un paese in crescita sempre più prospero si apriva anche sul piano sociale e politico fino a dare il suffragio universale e sulle manifestazioni la polizia e l'esercito sparavano sempre di meno poi attraverso quello la tragedia il crogiolo infuocato della prima guerra mondiale che cambia tutto e anche lì perché siamo entrati nella prima guerra mondiale cosa pensavano di fare cosa voleva la gente ma quale gente cosa volevano i professori gli studenti quello che voglio dire è che capire il novecento è come dire adesso voglio capire e conoscere bene l'Italia di oggi che è una cosa che io mi rifiuto di provare a fare faccio lo storico per quello perché so che il presente è impossibile capirlo e conoscerlo ti piove addosso da tutte le parti e invece il passato è chiuso il novecento è presente invece non è mai finito noi ci siamo ancora dentro ci stiamo ancora confrontando con quelle cose lì e aprire delle strade è di una difficoltà secondo me spaventante ma sto pensando figurati tra 50 anni quando gli storici dovranno spiegare come siamo passati dall'Italia di De Gasperi di Lapira di Togliatti di Nenni a quella di Renzi di Di Maio di Salvini stiamo lavorando però a questo punto aggiungo anch'io una battuta nel senso che se uno va poi a vedere è molto istruttivo andare a vedere come venivano considerati quelli che poi dopo diventano i grandi uomini della storia appunto Vittorio Emanuele II per tornare ai nostri Savoia diventa grazie a un ufficio stampa formidabile il re galantuomo viene inventata questa formula il re che ha unificato l'Italia il re guerriero e così via il re eroe benissimo se uno va a vedere cosa pensavano di lui appunto i suoi più stretti collaboratori Cavour che era Cavour e che lavorava con lui tutti i giorni ha detto e scritto l'avesse solo detto non lo sapremmo ma lo ha scritto e noi lo leggiamo Cavour ha detto quanto al re io essendo suo ministro mi impegno a servirlo con tutta la fedeltà possibile ma come uomo che se ne stia alla larga il più possibile anni dopo ricordo un giornalista inglese che intervista i ministri del regno d'Italia a fine anni sessanta e in confidenza più di un ministro dice il re la persona più sleale più infida guai a fidarsi del re ti frega sempre comunque ma poi diventa il regalantuomo Nenni togliatti la pira noi oggi giustamente diciamo dei giganti poi uno va a vedere all'epoca cosa si diceva Nenni un imbecille non escludo che in futuro si dica eh certo che ai tempi di Renzi di Di Maio e di Salvini allora sì che l'Italia speriamo di non esserci più quando si diranno queste cose adesso se i tecnici possono iniziare a attivare il collegamento con il Duga d'Aosta mi date un segno ok me lo da lei Umberto II che figura è? secondo me Umberto II è una figura che va molto rivalutata perché nel momento decisivo quando ha avuto un ruolo decisivo nella storia d'Italia a differenza del padre ha scelto gli interessi del paese rispetto agli interessi della diastia quando i risultati del 2 giugno determinano quel contrasto lo tirano per la giacca tutti lo tirano per la giacca gli americani e i degasperi perché se ne vada lo tirano per la giacca i monarchici perché resti in Italia di fronte alla prospettiva di una deriva di guerra civile sceglie di lasciare il paese è vero con un comunicato in cui dice me ne vado per una truffa per un abuso ma sceglie di andare in Italia e evita all'Italia le conseguenze drammatiche che avevano potuto esserci in questo senso credo sia da ripercorrere come personale ma è vero che la corte di Cassazione non ha mai omologato i risultati del referendum e qui ci colleghiamo alla figura di Umberto II o una fake news visto che lei è esperto diciamo così di smentita delle fake news questo lo sa devo dire che io nella mia ignoranza costituzionale non so se la corte di Cassazione debba avallare i risultati del referendum è previsto questo? si era previsto nel decreto istitutivo del referendum che l'approvazione sarebbe stata fatta dalla corte di Cassazione il problema è che il testo del referendum del decreto diceva che avrebbe vinto tra la monarchia e la repubblica chi avesse avuto la maggioranza degli elettori chi sono gli elettori? quelli che hanno diritto di votare o quelli che vanno a votare? i voti espressi cioè su questo equivoco è stato fatto un ricorso da parte di professori dell'università di Padova a cui non è stata data risposta in questo senso non c'è qualcosa di Cassazione ma il risultato è stato omologato dalla Cassazione tornando a Umberto la figura per lei che figura è? Umberto II questo diciamo è una buona occasione di nuovo per cercare di mettere in evidenza un'altra delle difficoltà dei discorsi che noi facciamo scusate abbiamo difficoltà anche con le poltroncine che ci rubano il portafoglio avendo un buco dietro e cioè chi era Umberto II? che giudizio possiamo dare su di lui? noi possiamo con fatica una volta ricostruito esattamente che cosa hanno fatto in certi momenti cruciali dire beh in quell'occasione quel politico ha fatto bene ci volevano ci volevano una schiena ben dritta per riuscire a fare quello che ha fatto lui altre volte ha sbagliato se noi parliamo di Churchill oggi noi siamo convinti che quando dopo il crollo della Francia nel 40 lui va in Parlamento e dice il signor Hitler ci ha proposto la pace ma noi la pace non la accetteremo con il signor Hitler e sarà dura e io vi predico sangue sudore lacrime però alla fine le democrazie vinceranno noi oggi siamo abbastanza convinti c'è anche qualcuno che dice avesse fatto la pace con Hitler ci risparmiavamo la seconda guerra mondiale ma noi invece tendiamo a pensare molti di noi tendono a pensare che è uno dei grandi momenti della carriera di Churchill mentre invece quando Churchill nella prima guerra mondiale ha pensato di mandare le corazzate attraverso i dardanelli per arrivare a Costantinopoli senza calcolare che i dardanelli erano pieni di mine per cui le corazzate sono affondate una dopo l'altra ecco lì ha sbagliato noi possiamo fare questo e quindi di Umberto II possiamo dire che insomma lui di fatto ha giocato un ruolo difficilissimo governando come luogotenente il paese nella fase finale della prima guerra mondiale della seconda guerra mondiale scusate giocando questa partita difficilissima di essere ufficialmente alla testa di un paese con un governo riconosciuto però un paese occupato dagli alleati che fino al giorno prima erano i nemici parlo della parte meridionale del paese dove effettivamente il governo del re e noi li chiamiamo alleati ma loro non ci riconoscevano come alleati sarebbe stato troppo per l'Italia fascista fino a ieri riconoscerla in 448 come un alleato hanno accettato che truppe italiane dell'esercito regio combattessero al fianco delle truppe inglesi americane francesi sul fronte italiano ma se ecco essere come dire il reggente il luogotenente del regno in quelle circostanze credo e non ha fatto grandi sbagli credo sarebbe stato un ottimo presidente della repubblica detto questo però quello che volevo ancora aggiungere scusami è che poi un conto è dire va bene ha fatto bene in quel caso male in quell'altro un conto è chiedere ma chi era che giudizio possiamo dare su di lui quello è difficilissimo ma invece una cosa importante che noi possiamo fare è chiederci ma com'era percepito la gente cosa sapeva e cosa pensava di lui quello sì che ti dà uno spaccato di un paese e lì è molto interessante vedere come era percepito Umberto Principe ereditario negli anni 30 perché c'erano tutte le posizioni possibili da chi lo vedeva come un fatuo ufficialetto di cavalleria capace solo di corteggiare le belle ragazze e andare alle feste e bere champagne chi sperava che sotto sotto fosse antifascista e quindi cercava di costruire una transizione in cui il nuovo re in futuro avrebbe potuto mettere un freno al fascismo chi lo vedeva antitedesco ecco chi lo vedeva invece come uno effeminato forse anche omosessuale comunque uno di cui non ci si può fidare per tanti motivi anche morali di tutto cosa c'era di vero poco probabilmente ma è una cartina di tornasole della complessità di nuovo di un paese che cerca a tentoni di immaginare quale sarà il futuro ecco un principe ereditario ha questo di buono che almeno in apparenza sembra prometterti un futuro puoi cominciare a ragionare quando sarà lui il re cosa succederà poi te lo ammazzano a Sarajevo naturalmente e tutti in calco il suo futuro saltano allora credo che abbiamo in collegamento su Altezza Reale Duca d'Aosta Medeo di Savoia mi sente Altezza? Buongiorno buongiorno la saluta a Gorizia e tutto il convegno di Estoria a Gorizia che si è cittara da tanto tempo soprattutto per la Savoia in particolare per la Savoia di Osta in mente la saga di Santa Gorizia benissimo in mente quello scritto stupendo di Locchi che io avevo letto già da bambino quando avevo dato un solo libro di italiano quando ho letto di Venezia di Venezia di Osta una cosa bellissima come vento allora io presento il Amedeo Principe di Savoia e Duca d'Aosta nasce a Firenze il 27 settembre 1943 quindi una data diciamo emblematica per la storia d'Italia il 25 luglio l'8 settembre è imparentato con le maggiori famiglie reali europee gli Aosta sono stati anche al centro di strategie dinastiche in prima battuta in Spagna come in Croazia riassumiamo la mappa generologica del Principe anche così capiamo di che parliamo Amedeo di Savoia Osta è l'unico figlio di Irene regina di Grecia e di Aimone di Savoia quarto Duga d'Aosta re di Croazia con il nome di Tomislavo II suo azio era l'omonimo eroe dell'Ambalagi detto Duca di Ferro e suo nonno era il Duca Invitto Emanuele Filiberto di Savoia che fece la sua entrata trionfale in Trieste a conclusione della prima guerra mondiale per parte di suo padre e pronipote di Amedeo I di Spagna mentre per parte di madre e nipote di re Costantino di Grecia nonché pronipote di Federico III di Germania e di Giorgio I di Grecia e inoltre pro pronipote della regina Vittoria del Regno Unito e di re Cristiano IX di Danimarca nonché discendente dello zar Nicola I di Russia ed essendo bisnipote di Amedeo I di Spagna è il quarantesimo in linea di successione del trono spagnolo poi nel 1944 su ordine di Himmler lo deportarono in un campo di concentramento vicino Graz e poi è tornato in Italia dopo il referendum sta in Svizzera poi torna in Italia e a seguito del referendum istituzionale di fatto Umberto è andato via quindi lui diventa il punto di riferimento dei monarchici italiani ha sposato Claudia di Francia ha avuto tre figli Bianca di Savoia Amone di Savoia Mafalda di Savoia e poi in seconde nozze in 1987 ha sposato Silvia Paternò di Spedalotto allora altezza eccoci quindi lei essendo imparentato con tutte le famiglie europee oggi si vota per le europee quindi ne sappiamo qualcosa ne sa qualcosa nel suo DNA e da chi ha preso un po' da tutte queste famiglie c'è un'affinità di discendenza? Credo di sì perché siamo tutti parenti e ancora adesso discendenti quasi tutti della Regina Vittoria quindi siamo ancora vicini come parentela forse il sangue che più da cui abbiamo appreso più una caratteristica è quello romano perché tutti ci dicono anche se somigliamo alla famiglia dello zar addirittura all'ultimo zar Nicola e quindi quello è il sangue predominante ma il fatto di essere parenti con tanti altri ci dà un lato molto importante di appartenenza un'appartenenza in fondo quasi obbligatoria tornando indietro nei secoli per avere delle alleanze e stringere delle importanti diciamo sempre appartenenze a quella che dovrebbe essere l'Europa di cui si è parlato tanto da molti anni purtroppo questo non è servito nella guerra perché eravamo si parenti ma la guerra ci ha diviso tutti ed è stata una cosa molto triste che questo fine di cui abbiamo ancora adesso parlato non ha funzionato questa è una cosa che purtroppo è stata molto triste chi le piace come modello di sovrano diciamo di ieri o di oggi a quale modello di sovrano si richiama maggiormente io credo in Europa sicuramente la regina d'Inghilterra che ho l'onore di conoscere bene perché diverse volte l'ho vista sono stato addirittura alla sua incoronazione molti anni fa ed era proprio il 2 giugno che è la stessa data che diciamo è importante anche in Italia oggi in cui fu incoronata ero bambino piccolo me lo ricordo benissimo queste cose che rimangono stampate nella memoria fuori dall'Europa penso che in delle adultate di Giordania fosse una delle persone più vicine al suo popolo un uomo illuminato che ha studiato l'Inghilterra che è estremamente sensibile a una situazione molto complicata c'è Israele lì vicino ci sono altri paesiarabi che non hanno grandi affinità col suo mentre il suo è il paesiarabo per eccellenza sono i due livelli sono ancora questi soldati che erano quelli di l'Oresta Arabia per intendersi un sovrano che per essere vicino alla gente a volte prende un taxi con una barba finta e comincia a parlare del re parlando possibilmente male per vedere quali sono le reazioni una volta è stato buttato giù da tasse così picchiato perché aveva parlato male del re altezza noi abbiamo parlato oggi stiamo parlando del ruolo della monarchia nel risorgimento quindi nella storia d'Italia essere ramo cadetto cosa ha comportato nella storia diciamo di per i suoi avi e per lei ramo cadetto come ha detto il professor Barbero sono sempre lì sul fiato sul collo verso i principi editari ma credo come cadetto vorrei essere i soldati prima di tutto perché allora così si era si era in prima fila eravamo quelli che erano scelti in prima fila e avevamo tutti dei comandi di unità precisa dell'esercito cosa che nelle altre monarchie non è così per esempio in Inghilterra non hanno dei comandi che corrispondono alle strisce che hanno sulla manica o le stebette che hanno sulle spaldine ma non hanno mai avuto dei comandi che fossero esecutivi o importanti nel senso proprio diretto della parola invece in Italia avevano sempre avuto degli amiranni che hanno sempre avuto la possibilità di combattere di essere in prima linea aveva il mio nonno Emanuele Filiberto il duca di Nebruzzi il duca di Genova lo stesso Amedeo duca d'Aosta Custoza viene addirittura ferito perché in prima linea su un cavallo cade da cavallo ferito nella pancia così c'è scritto quello di detto la medaglia d'oro una cosa forse che era un lato che non si pensa che un ramo cadento vuol dire avere la possibilità di parlare di più avere una lingua più sciolta meno responsabilità più si è lontani dal culinale più la vita diventa non dico facile ma meno impegnativa e bisogna stare forse meno attenti a dire non dico delle sciocchezze ma a parlare dicendo delle verità benissimo una curiosità non è gossip però avrebbe preferito essere più re di Spagna di Croazia o d'Italia nessuno dei tre per la responsabilità che questo comporta se poi fossi stato chiamato avrei chiesto avrei preferito l'Italia ma questo credo che è una cosa che si sa senta anche qui la consulta dei senatori del regno anche per chiarire ulteriormente di fronte a una platea immensa qui a Gorizia lei ancora è capo della casa cioè rispetto al suo cugino Vittorio Emanuele IV la questione legittimista come è andata a finire come è lo stato dell'arte così dicono le leggi di famiglia che sono come si dice il biglietto di Vittorio Emanuele III e quindi da allora queste leggi sono le regge patenti le regge patenti esattamente e così fu il Drey che disse che ricordo al principe Vittorio Emanuele con una lettera in cui diceva che se fosse sposato senza consenso aveva perso ogni possibilità di evitare sia il titolo che diciamo il fatto di essere capo di famiglia o eventualmente sovrani in attualità adesso è una repubblica e quindi questa è una cosa che mi ha scritto due volte ma avete ben preciso che poi è sul mio sito quindi su questo non si discute la mia consulta del senatore ha fatto suo questo ricordando che questo era avvenuto ma è il Drey stesso che ricordò a tutti che questo era avvenuto prima che sarebbe avvenuto e poi dopo il matrimonio ha impresso ogni possibilità per evitare un titolo l'essere capo di famiglia benissimo allora vuole fare un ultimo saluto a Gorizia e all'incontro di Estoria sì che mi scuso oggi c'ho poca voce per cui non riesco a parlare molto bene comunque il mio saluto è commosso perché conosco quella zona molto bene conosco Gorizia conosco Ronchi di Regionali e di Puglia la strada che va a Trieste quel bel monumento in Bronto e l'Ufi di Toscana e con i tanti altri luoghi che sono cari cari alla patria come si soleva dire una volta come si dovrebbe dire ancora oggi e poi da Gorizia questa città che è stata dimenticata dall'Italia ufficiale che è quella che ha sofferto forse di più di tante altre città italiane con una popolazione che ha sempre avuto una marcia in più perché i veri italiani quelli che erano più avevano entusiasmo e fedeltà alla patria erano quelli e diciamo che non c'è mai stata un'attenzione particolare anzi c'è stato il contrario quel trattato di Osimo di cui forse nessuno sa bene che cosa fosse non si sa bene dove fosse Osimo cosa è riguardato il trattato e chi l'ha firmato questo è molto triste bisogna parlare il più possibile vorrei anche ricordare che noi fumo i primi cosa sa voi andare sulle folle appena quel territorio fu in qualche modo liberato o accessibile fino dai primi anni sessanta e credo che l'Italia ufficiale se l'ha ricordata proprio in questi giorni purtroppo questo è quanto e chiudo questo collegamento con un grande abbraccio promosso grazie grazie per i social è arrivata è arrivata una domanda che chiede la piemontizzazione del neonato stato italiano fu un errore grazie prego la piemontizzazione dello stato fu la risposta di un paese che si era unificato in virtù di una congiuntura internazionale favorevole che doveva dimostrare di riuscire a tenere tutti insieme un paese che era stato in realtà in parte conquistato che aveva alle spalle una potenza l'Austria che poteva l'aveva già detto Alessandro Barbero prima da un momento all'altro attaccare credo che l'errore l'errore sempre come come si può parlare di errori dal punto di vista di chissà come è andata a finire sia stato quello di aver immaginato una forma di accentramento del potere che non prevedesse nessuna forma di decentramento territoriale voglio dire il servizio militare obbligatorio nel Piemonte è stato metabolizzato attraverso tre secoli perché da Emanuele Filiberto in poi si è stabilito che i territori dovessero dare un contingente di dieci uomini poi qualche anno dopo di quindici poi di cinquanta quando è stata fatta una legge nel 1854 legge la Marvano sul servizio di leva obbligatorio per tutti di fatti era già metabolizzato nel sud è stato imposto dal giorno dall'oggi al domani un servizio che all'epoca durava cinque anni e che voleva dire per le famiglie contadine del tempo togliere delle braccia nel momento in cui erano più utili per i lavori della campagna cioè la reazione al servizio militare non la paura del figlio morto in guerra è la sottrazione di una risorsa alla campagna ecco probabilmente quel processo poteva essere sviluppato attraverso delle forme di progressione il problema è che non dimentichiamo che chi ha fatto l'Italia chi politicamente stava a mezzo metro sopra gli altri Cavour muore all'inizio di giugno del 1861 tre mesi dopo un'unità d'Italia e tra Cavour e gli altri dirigenti politici c'è un abisso di intuizioni di capacità al netto del fatto che anche su Cavour ci siano tanti discorsi sul suo caratteraccio però come dire gli uomini storici vanno giudicati per ciò che hanno fatto per ciò che hanno nella vita privata con relativamente poco sicuramente il fatto che sia venuto meno un personaggio di quel peso ha anche pregiudicato uno sviluppo diverso dell'Italia resta da dire che con quel sistema di piemontesizzazione accentrata con quei prezzi altissimi che sono stati pagati però l'unità del paese è stata mantenuta c'è un'altra domanda? no sì o no? rispondi beh questa stessa allora facciamo così una cosa diversa concludiamo visto che mancano ormai sei minuti la fake news più grande pensateci su risorgimento sui Savoia visto che per esempio il professor Barbero ci ha regalato tante contraddizioni alle fake news ha smentito parecchie fake news sul medioevo la cintura di castità una fake news allora diciamo così su risorgimento e sui Savoia qual è la fake news che oggi circola come normale e poi in realtà è una fake news? ma sai più che una fake news mi pare ci sia una una fake vulgata e cioè l'idea che il risorgimento sia stata una grande guerra di popolo attraverso cui gli italiani si sono sottolti dal gioco straniero gli italiani non hanno partecipato al risorgimento credo che i contadini del sud come i montanari piemontesi non ne sapessero nulla è stata una scelta di classi dirigenti politiche è stata una scelta della borghesia piemontese hanno fatto l'Italia e come si attribuisce a Massimo D'Azzeglio anche se nessuno ha trovato dove l'avrebbe scritto si sono trovati in un paese dove l'Italia era fatta ma bisognava ancora fare gli italiani quindi ecco più che fake news più spiccio e mi pare una vulgata come ce ne sono tante ma d'altra parte la storia non è una materia oggettiva la storia come diceva Veneretto Croce è sempre storia contemporanea perché qualsiasi periodo studiamo anche quello più remoto lo facciamo sempre dal punto di vista del presente e quindi le vulgate sono in qualche modo destinate a tramontare e sfumare nel momento in cui cambiano le situazioni citava il Medeo d'Aosta le foibe pensate cosa a parte in questa zona cavità carcica a parte in questa zona ma in tutto il resto d'Italia le foibe fino a 15 anni fa erano un argomento rimosso inesistente erano una fake news della propaganda anticomunista adesso sono diventate sono state sdoganate e si studiano per quello per quello che effettivamente sono state in questo senso le vulgate spesso sono fake perché figlie della contemporaneità ma e allora come avete visto io come dire io ho approfittato spesso del nostro tema di oggi per tirar fuori i rovelli che uno ha quando fa il mio mestiere i problemi che ti trovi di fronte quando ti fanno delle domande a cui la risposta sembra così semplice e tu invece ti accorgi che non riesci a dare una risposta semplice le fake news le fake news riguardano i fatti quando ti viene detto è successa la tal cosa e invece poi scopri che non è vero quella è quella che oggi chiamiamo una fake news non si sa perché perché l'abbiamo sempre chiamata una balla e ci capivamo benissimo lo stesso ma comunque e questo riguarda i fatti i fatti sono in gran parte accertabili non tutti non fino in fondo dipende dai però in parte sono accertabili ed è soprattutto sui fatti accertati o molto probabili che dovremmo discutere allora in questo senso come dire mi tirate un po' per i capelli indubbiamente il fatto che la lotta contro il brigantaggio condotta dall'esercito italiano con estrema violenza tra l'approvazione generalizzata delle classi dirigenti meridionali che invocavano ancora più fucilazioni abbia fatto un milione di morti come a volte si legge da qualche parte in un meridione d'Italia che aveva in tutto sei milioni di abitanti la parte continentale ecco forse otto ecco questa è una fake news è un fatto falso quando però ci viene chiesto la piemontesizzazione dell'Italia è stata un errore qui non stiamo parlando di fatti stiamo parlando di interpretazioni e le interpretazioni saranno sempre comunque in parte soggettive e variabili ci sono alcuni casi in cui la grande maggioranza di noi si troverebbe d'accordo è un bene che la seconda guerra mondiale l'abbiano vinta gli alleati e non Hitler quasi tutti i presenti credo direbbero sì è un bene ma magari non tutti perché c'è qualcuno e dal punto di vista di Hitler comunque è stato un gran male lui avrebbe voluto vincerla lui lui e tanti altri come lui allora voi capite che diventa difficile qui dare delle risposte che non siano soggettive poi puoi dire no beh è andata in quel modo lì e tutto sommato è andata abbastanza bene ma anche lì l'Italia che è uscita dall'unificazione l'Italia sabauda piemontesizzata e di destra negli anni 60 70 80 dell'ottocento sembrava orrenda a molti sembrava orrenda a Garibaldi che avrebbe voluto avere la repubblica e invece sembrava orrenda a quelli che volevano un liberalismo allargato il suffragio universale e invece avevano un paese dominato dai notabili da ristrette elite a tanti altri sembrava un paese bellissimo a Edmondo di Amici sembrava una cosa meravigliosa che ci fosse un paese già il fatto che l'Italia fosse unificata a tanti è bastato per dire che meraviglia a Carducci sembrava orrenda Carducci scrive la prefazione a Leodi Barbare no ai Giambi e Depodi scusate intorno all'80 81 dicendo ma che paese siamo con i contadini che crepano di miseria e di pellagra e una tronfia retorica che domina tutto e altri dicevano ma accidenti però stiamo facendo le ferrovie i porti cresciamo siamo rispettati faremo perfino le colonie fra poco sempre sia chi ci vive sia chi dopo è chiamato a giudicare è tirato da tutte le parti ci sono delle cose positive e delle altre non positive in quell'ambito lì a noi non si deve chiedere la verità ci si può chiedere cosa ne pensiamo noi e magari di dare un giudizio non del tutto arbitrario ma sono giudizi ma dietro ci sono i fatti e almeno sull'accertamento dei fatti bisognerebbe invece che ci fosse una capacità anche del pubblico di distinguere e quando qualcuno ti dice una cosa clamorosa chiedergli tu come fai a saperlo questa semplicissima domanda non fa parte dell'armamentario normale dell'essere umano l'essere umano di solito quando gli dicono qualcosa di mirabolante io anche spalanca la bocca e dice ma da ah ma allora ecco invece la domanda da fare è tu come fai a saperlo che sono successe quelle cose lì che sono sbarcati i marziani nel New Mexico che le scie chimiche ecco come fai a saperlo su quella base lì bisognerebbe discutere poi le interpretazioni sono un momento successivo importante ma un'altra cosa ok allora io credo che oggi credo che oggi abbiamo abbiamo dimostrato che si può parlare di storia in modo interessante argomentato e soprattutto non noioso grazie a tutti grazie al professor Barbero grazie a professor Lovino grazie 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 a tutti